L'ingrediente che non manca mai nei frullati che mi faccio la mattina sono i funghi, da quando ho letto del loro utilizzo millenario nella medicina tradizionale cinese e sperimentato in prima persona i benefici. Ecco un esempio di come usarli in un frullato. Uniamo una banana congelata, datteri, Mycodynamic, un mix di 5 funghi funzionali, di cui ne uso un cucchiaio, un cucchiaio di cacao, uno di proteine di canapa, un cucchiaio di burro di semi di canapa, un goccio d'acqua e frullo. Infine aggiungo dei toppings per rendere la bowl più interessante e aggiungere un po' di croccantezza. Frutti di bosco, granola crudista al caramello salato, semi di canapa, granella di cacao e un po' di cocco. Leggi la descrizione per qualche info in più su Mycodynamic.